Per affrontare la crisi è meglio avere al proprio fianco degli alleati forti Sono arrivati i saldi tagliacrisi del centro Legrange Dal 6 al 19 luglio il grande concorso che ti rimborsa IMU Bollette ti fa vincere tanti buoni acquisto Hai capito bene, oltre a risparmiare con i saldi puoi vincere l'IMU, le bollette e tanti buoni acquisto Dai un taglio alla crisi, scopri tutti i premi e il regolamento su www.cclegrange.it Legrange, shopping con più emozioni